Edison non partecipa alla commissione d'inchiesta su bussi. L'azienda ha così dato nuovamente buco alla regione, rifiutando ogni interlocuzione con la parte politica. Ancora oggi invece Edison ci dice che non partecipa a questa commissione d'inchiesta, accampando alcune scuse in merito alle modalità con cui si svolge questa audizione, cosa che invece Edison conosce perfettamente, ma noi non demorderemo, con testardaggine andremo avanti, perché riteniamo che gli abruzzesi abbiano bisogno e diritto di risposte sia sul passato sia sul futuro, cioè su quello che Edison intende fare ancora nei siti che non sono stati bonificati. A quanto pare Edison intende parlare solo coi giudici. La società per azioni infatti ha annunciato il ricorso in Cassazione contro la sentenza, già confermata dal Tarre e dal Consiglio di Stato, che attribuisce all'azienda la responsabilità dell'inquinamento. E non solo, il ricorso è su tutta la linea. Dopo che il Ministero dell'Ambiente ha annullato la gara d'appalto già giudicata, che prevedeva la rimozione totale dei rifiuti, Edison ha impugnato davanti al Tarre di Pescara la lettera tramite cui il Ministero chiedeva all'azienda di presentare un nuovo progetto di bonifica. Edison così guadagna tempo. Da un lato nessuna bonifica, in quanto la gara è stata annullata a giochi fatti. Dall'altro Edison fa ricorso sulle responsabilità e si rifiuta anche di presentare un nuovo progetto. Si perderanno così tanti altri anni, di tribunale in tribunale, mentre tonnellate di sostanze tossiche sono ancora seppellite nel cuore della regione. L'alternativa sarebbe stata procedere alla bonifica, così come previsto fino a qualche mese fa, per poi farsi risarcire dal colosso dell'energia. Rimane quindi da capire perché il Ministero abbia regalato così tanto tempo ad Edison, che nel frattempo paga solo gli avvocati, a differenza di quanto promesso in pompa magna dal Ministro Costa, che un anno e mezzo fa aveva definito corbellerie l'annullamento del bando. Forse la risposta al quesito arriverà il 20 luglio, quando il Ministero si recherà davanti alla commissione d'inchiesta, tramite la struttura del servizio bonifica. Intanto nella seduta di ieri, quella in cui Edison non si è presentata, sono stati ascoltati i comuni. I Popoli, per esempio, che ha una richiesta di riperimetrazione del SIN e Castiglione a Casauri, invece che era il luogo dove sorgevano i posti da cui si attingeva l'acqua, i posti Sant'Angelo, che comportavano un canone che veniva riversato al comune di Castiglione a Casauri di 20.000 euro l'anno. E poi tanti aspetti che hanno riguardato il processo, sia nella parte penale, sia la possibilità di costituirsi ancora in serie civile davanti al Tribunale dell'Aquila all'esito dell'ordinanza che scioglierà i dubbi e le eccezioni che sono state sollevate da Edison. Parliamo del processo civile e che potrà riguardare gli 11 comuni che si sono costituiti parte civile.